personaggi del mondo dell'arte tanti cittadini comuni hanno reso omaggio a scicli alla salma del maestro piero gucione la camera ardente allestita palazzo spadaro il presidente della regione nello musumeci ha inaugurato la bretella di collegamento con l'aeroporto di comiso si accorciano i tempi per raggiungere lo scalo la ricapitalizzazione della sua acqua auspicata dalla camera di commercio del sud est non smorsa le polemiche sul futuro del pio la torre a tg 74 il parere del sindaco di comiso a scicli individuata e sequestrata un'area di 4000 metri quadrati in uso alla ditta appaltatrice del servizio di igiene urbana venivano stoccati abusivamente rifiuti ingombranti operazione di controllo dei carabinieri delle compagnie di vittoria in modica per combattere il fenomeno dello spaccio di droga scattano arresti e denunce un cordiale saluto ai telespettatori dei tg 74 dunque a scicli giornata dedicata al ricordo del maestro piero gucione camera ardente a palazzo spadaro ai bandiere a mezzasta per rendere onore ad un personaggio conosciuto in tutto il mondo grazie alla sua arte considerato il più grande pittore italiano degli ultimi 50 anni il servizio lutto cittadino a scicli e bandiere a mezzasta per la giornata dedicata al ricordo del maestro piero gucione morto sabato pomeriggio all'ospice dell'ospedale maggiore di modica la camera ardente allestita a palazzo spadaro ha visto sfilare davanti alla bara sistemata sotto un quadro di gucione tanta gente cittadini comuni ma anche politici esponenti della stampa estera e del mondo dell'arte legati al maestro da antica amicizia da roma è arrivato a rendere omaggio a gucione anche lorenzo zichichi figlio del fisico antonino lorenzo zichichi è stato editore di piero gucione la cartella discorsi attorno a due nuove scienze con prefazione di giovanni paolo secondo fu edita proprio dal figlio dell'illustre fisico 15 anni fa nel corso della mattinata hanno reso omaggio alla salma anche molti studenti di istituti della provincia di ragusa camera ardente aperta fino alla cerimonia funebre civile in piazza municipio domani poi la salma di piero gucione sarà trasferita a messina per la cremazione le ceneri saranno consegnate alla figlia paola non è prevista la sepoltura nel cimitero di scicli anche a modica questa mattina su invito della giunta municipale negli uffici comunali e nelle scuole è stato osservato un minuto di raccoglimento in ricordo del maestro che ha realizzato e regalato alla città di suo padre il tondo sistemato nel soffitto del teatro garibaldi e adesso un omaggio del gruppo editoriale canale 74 alla memoria del maestro gucione andiamo avanti con il nostro tg è stata inaugurata questa mattina alla presenza del presidente della regione nello musumeci la bretella di collegamento per l'aeroporto di comiso si tratta di una arteria viaria lunga circa 3 chilometri interamente realizzata con fondi ex insicem per noi sul posto luca bonina l'aeroporto di comiso più a portata di mano più vicino è meglio collegato con la ragusa catania grazie a questa bretella inaugurata proprio questa mattina dalle mani del presidente della regione nello musumeci che lui stesso ha detto un importante infrastruttura viaria che si attendeva da diverso tempo intanto abbiamo bisogno di infrastrutture la provincia di ragusa è stata destinataria di una opera che ancora deve essere completata un'opera immaginata dieci anni fa e purtroppo realizzata soltanto adesso e questo dimostra come in sicilia noi non possiamo continuare a pensare che un'opera pubblica debba richiedere 10 12 15 anni per essere ultimata tempi assolutamente incompatibili con le esigenze di una economia così depressa che invece ha bisogno di spesa pubblica e di investimenti con immediato ritorno perché la spesa pubblica crea crea ricchezza sul territorio cresce il consumo e le famiglie tornano ad essere protagoniste del proprio destino l'aeroporto di comiso deve essere consolidato nella sua funzione di sistema con catania ancora il sistema aeroportuale della sicilia orientale non c'è non lo vedo è solo sulla carta non è possibile che in sicilia ci siano sei aeroporti e sei società di gestione una cosa che non sta né in cielo né in terra io immagino abbiamo immaginato come governo una sola società per gestire tutti gli aeroporti se proprio vogliamo vogliamo andare oltre credo che due società bastino una per la sicilia orientale e una per la sicilia occidentale fare concorrenza fra lucertole ed elefanti è una follia tutti possiamo diventare elefanti se entriamo in un sistema logico per cui comiso può avere una funzione specifica che non può avere catania e viceversa lo stesso vale per palermo e per birgi noi ci stiamo lavorando abbiamo già aperto un tavolo con le sei società con l'enac che è disponibile su questo terreno gli aeroporti non si mantengono col denaro pubblico come sapete in tutto il mondo civile gli aeroporti vivono con le attività che tornano dal fatturato e con l'impegno degli imprenditori è una delle prime grandi opere pubbliche realizzate con i fondi ex insice i lavori per realizzare la nuova bretella lunga più di tre chilometri sono durati 18 mesi e la ditta giudicataria li ha completati secondo i termini contrattuali ad eseguire l'opera è stata il consorzio fenix di bologna che in loco si è affidato alla ditta lineera costruzione di santa venerina i lavori a base d'asta hanno avuto un importo complessivo di 9 milioni e 200 mila euro con un finanziamento a valere sui fondi ex insice e l'appalto a giudicatario all'orega di ragusa ha avuto un ribasso del 52 per cento l'importo del contratto al netto del ribasso in relazione ai lavori affidati è stato determinato in 4 milioni e 600 mila euro una infrastruttura anche se diciamo il primo step di un'opera ancora più importante che agevola il percorso che dalla catania ragusa va verso l'aeroporto è una struttura fatta con tutti i criteri della modernità della moderna viabilità in quanto non ci sono intersezioni ma per raggiungere le loro campagne i proprietari usufruiscono di una strada parallela che percorre l'intero tratto della strada è un'opera importante che ha impegnato diversi milioni dei fondi ex insice ma che vedrà con il finanziamento dei PAC quindi fondi regionali la realizzazione di altri due step altri due lotti che metteranno in sicurezza con delle opere idrauliche l'aeroporto di comiso e il futuro dell'aeroporto di comiso resta però incerto e notizia di ieri la necessità di ricapitalizzazione da parte della camera di commercio di catania ragusa e siracusa scelta necessaria secondo il primo cittadino di comiso maria rita schembari che smorza i toni anche sulle recenti e dure dichiarazioni da parte del v sia il comitato degli utenti aeroportuali del sud sicilia che si scaglia contro l'operato fino ad oggi svolto dalla soaco la società che gestisce l'aeroporto pio la torre chiedendo anche l'immediata revoca della concessione per poter offrire al sud sicilia dichiarato claudio melchiorre presidente della bus sia la continuità operativa dell'attività aeroportuale che l'attuale società ha dichiarato di non potere garantire ecco quanto ha dichiarato sulla vicenda maria rita schembari sindaco di comiso sindaco quindi la bretella è inaugurata ma ovviamente riguardo l'aeroporto di comiso non bisogna ovviamente fermarsi qui c'è di ieri la notizia della rendicontazione per quanto riguarda la camera di commercio ci sono alcune polemiche sollevate anche da parte del bus sia che incide negativamente anche contro la soaco ma a guardi l'affermazione che è uscita fuori come comunicato stampa dalla camera di commercio riunita di catania siracusa e ragusa in realtà è una cosa che sta nei fatti e sostengono appunto che direttore agen innanzitutto che si debba fare una ricapitalizzazione subito dopo questo piano di ristrutturazione soprattutto dopo che sarà arrivata a termine la liquidazione di inter sac holding ma questa cosa sta nei fatti l'aeroporto purtroppo la gestione dell'aeroporto è andata così tanto in perdita nei cinque anni che la ricapitalizzazione è una cosa che si deve fare ed è per questo che più volte io ho detto e per fortuna ho trovato veramente un interesse vivo da parte di alcuni colleghi sindaci in testa a tutti sicuramente il sindaco di ragusa peppe cassico nel quale interloquisco sempre in maniera piana diretta e ci intendiamo su molte cose sul fatto che il 35 per cento che detiene attualmente solo il comune di comiso non può rimanere solo sulle spalle del comune di comiso perché dinanzi ad una ricapitalizzazione seppure di non troppi milioni di euro il comune di comiso col suo bilancio tra l'altro cagionevole perché esce fuori da uno stato di dissesto finanziario non ce la farebbe quindi comiso ha gredato aiuto agli altri comuni della provincia le altre comuni della provincia hanno detto eccoci ci siamo e quindi dobbiamo stare tutti calmi non c'è nulla di grave nulla di esiziale sta nelle cose ricapitalizzare una società che purtroppo ha perso anno dopo anno e adesso un'ampia pagina di cronaca anche il comitato modicano dei cento passi per la sicilia esprime solidarietà al presidente della commissione regionale antimafia claudio fava che ieri si è visto recapitare una busta con un proiettile calibro 7 e 65 un atto vile intimidatorio che è stato condannato da decine di esponenti politici della società civile i carabinieri hanno sequestrato a cicli un'area di 4 mila metri quadrati dove la ditta appaltatrice del servizio di raccolta stoccava rifiuti ingombranti senza alcuna autorizzazione l'operazione ha permesso di interrompere una grave situazione di inquinamento ambientale i rifiuti ingombranti della differenziata cicli venivano stoccati in un'area abusiva senza alcuna autorizzazione sono stati i carabinieri della tenenza di cicli coadiuvati dai colleghi del nucleo operativo ecologico di catania a scoprire la situazione e a prendere gli opportuni provvedimenti l'area interessata si trova in contrada da musi ed è vasta circa 4 mila metri quadrati i militari hanno scoperto che al suo interno si trovava un ingente quantitativo di rifiuti stoccati che a costituire quest'area di primo stoccaggio dei rifiuti ingombranti era stata la ditta appaltatrice del servizio di raccolta rsu nel comune di cicli per svolgere questo tipo di attività sono necessarie autorizzazioni rilasciate dagli enti preposti alla gestione della materia ambientale ma i carabinieri hanno verificato che la ditta non era in possesso di alcuna autorizzazione in merito la vasta area è stata controllata in maniera approfondita ed è stata verificata la presenza di numerosi rifiuti sia speciali non pericolosi che speciali pericolosi in buona parte di tipo tecnologico il terreno è di proprietà di uno ciclitano di 68 anni che ha volontariamente affidato il terreno alla ditta di raccolta rifiuti al termine delle operazioni è scattato il sequestro penale per l'intera area e il provvedimento è stato trasmesso alla procura di ragusa per il successivo corso di legge e notificato alla ditta e al comune di cicli l'operazione ha permesso di interrompere una grave situazione di compromissione dell'ambiente i carabinieri di modica hanno tratto in arresto in flagranza di reato due nordafricani per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente ieri sera i militari guidati dal capitano ferrante hanno individuato i due soggetti mentre si aggiravano vicino ad una abitazione di marza uno dei due è stato immediatamente riconosciuto come soggetto già colpito da precedenti per spaccio e sono scattate le attività di perquisizione personale e domiciliare all'interno dell'abitazione sono state rinvenute diverse dosi di cocaina per circa 6 grammi e altrettanta marijuana tutta pronta già per lo spaccio la droga è stata sequestrata a selami zura marocchino di 41 anni pregiudicato e abdelaziz abdallah tunisino di 23 anni sono stati arrestati e tradotti agli arresti domiciliari a disposizione dell'autorità giudiziaria di ragusa contrasto allo spaccio di droga anche nell'ipparino da parte dei carabinieri della compagnia di vittoria il controllo nei territori di chiaramonte acate comiso e vittoria ha portato all'arresto di un giovane di 27 anni all'arresto e alla denuncia scusate di quattro persone vediamo un arresto e tre denunce a conclusione di un'operazione di controllo del territorio eseguita dai carabinieri della compagnia di vittoria a chiaramonte acate comiso e vittoria per contrastare il fenomeno dello spaccio di droga i militari dell'arma hanno arrestato giovanni piazzese 27 anni trovato in possesso di 7 grammi di marijuana suddivisa in 6 dosi 28 grammi di hashish suddivisa in 15 stec un bilancino di precisione materiale vario per il confezionamento della droga il giovane è stato ammesso ai domiciliari nel corso della stessa operazione sono state denunciate quattro persone un operaio di 44 anni accusato di evasione dagli arresti domiciliari un 31enne italiano e un 38enne egiziano per possesso di vari strumenti da scasso un disoccupato di vittoria che sottoposto alla misura della libertà vigilata non è stato trovato nella propria abitazione e nel corso di una operazione di controllo a santa croce camerina i carabinieri hanno segnalato al prefetto un ventenne del posto che deteneva circa due grammi di hashish per uso personale nel corso della notte invece cinque ragazzi sono stati fermati a bordo di una mercedes in una strada di campagna il 19enne tunisino alla guida del veicolo era privo di patente e l'autovettura sprovvista di assicurazione per questo gli è stata elevata una multa di circa 5 mila euro il mezzo è stato sequestrato il giovane trovato anche in possesso di un coltello di genere vietato è stato denunciato un camion che trasportava carni macellate si è ribaltato questa mattina alle prime luci dell'alba sulla via nazionale modica ispica forse nell'imboccare una curva il conducente ha perso il controllo del mezzo carico di carne rovesciandosi sull'asfalto sul posto i carabinieri che hanno regolato il traffico e i vigili del fuoco che con l'ausilio di una gru hanno rimesso il mezzo pesante in carreggiata il conducente è rimasto illeso per lui solo un po di spavento il traffico ha subito qualche rallentamento assemblea cittadina per discutere sulle criticità della raccolta differenziata modica e per individuare soluzioni in modo da migliorare il servizio si svolgerà giovedì alle 18 nei locali dell'ex asilo antoniano di piazza libertà al quartiere sorda l'iniziativa è dei gruppi consigliari e politici di minoranza insieme ad associazioni di consumatori e di cittadini la pista ciclabile di marina di ragusa invasa da fango e scarichi di fognature quindi impraticabile per lunghi tratti lo scorso fine settimana la segnalazione arriva dalla segreteria cittadina del partito democratico di ragusa che chiede alla giunta comunale di intervenire urgentemente per fare tornare la situazione alla normalità il pd sollecita anche all'amministrazione comunale una maggiore attenzione alla manutenzione lo studente modicano ivan di rosa è stato insignito del premio al fieri del lavoro per gli ottimi risultati ottenuti nel corso degli anni scolastici diplomandosi con il massimo dei voti al liceo classico galilei campaila di modica e per questo motivo selezionato tra i migliori dieci a far parte dell'università di medicina scuola superiore sant'anna di pisa la cerimonia che si è svolta sabato scorso al palazzo san domenico si è conclusa con la consegna da parte del sindaco abbati e dell'assessore monasteri anche della stampa del giuramento di castronovo l'associazione il melograno di modica in collaborazione con l'ente liceo convitto organizza un laboratorio teatrale per bambini dai 7 ai 12 anni per informazioni bisogna chiamare dalle 13 alle 16 e dalle 20 e 30 alle 22 al 338 30 56 259 oppure dalle 9 alle 11 il martedì giovedì e venerdì allo 0932 94 1740 festa del carrettiere a comiso su iniziativa dell'associazione ipos arte e cultura il 13 ottobre alle 20 sul sagrato della chiesa madre si terrà alla quinta edizione della festa dedicata ad uno dei mestieri più rappresentativi della cultura tradizionale siciliana sarà allestito un palco con i caratteristici carretti momento saliente della serata l'esibizione del baritono sandro paternò che narrerà con le sue canzoni la vita dei carrettieri subito dopo si esibiranno i musici francesco scrofani cancellieri davide purpura e flavia la perna ospiti della serata giuseppe cassarino e pipo di giacomo che delineeranno alcuni aspetti di storia popolare legati a questo antico mestiere ed il contastorie giovanni virgadavola il comitato regionale della federazione pallacanestro ha reso noto che a causa dell'inagibilità del palazzetto dello sport di comiso la gara di esordio del campionato di serie di tra olimpia basket comiso e la sd pallacanestro aci buonaccorsi si giocherà domenica prossima alle 18 alla palapadoa di via zama ragusa la conferma è arrivato ufficialmente questa mattina dopo che è stata accertata l'impraticabilità del paladavolos dovuta a non precisate motivazioni di carattere tecnico e adesso per chiudere parliamo di calcio gara di ritorno dei sedicesimi di coppa italia di promozione domani tra ragusa e modica la gara è in programma all'aldocampo di contrada selvaggio alle 15 e 30 si riparte dal 2 a 2 dell'andata maturato al vincenzo barone favoriti padroni di casa che possono contare sui due gol segnati in trasferta il ragusa è reduce dalla vittoria sul terreno del riccardo garrone di siracusa mentre il modica deve riscattare la pessima prestazione di domenica scorsa a floridia che è costata un'altra sconfitta fuori casa ed era questa l'ultima notizia del nostro telegiornale io vi ringrazio per essere rimasti con noi vi do appuntamento alle prossime edizioni grazie